Oggi vi do qualche info per quanto riguarda le classi di Nino Kuni Crosswords. Il Destroyer è il tank della situazione, è un guerriero melee che combatte in corpo a corpo, non fa tantissimi danni ma ne può ricevere moltissimi. La strega è un glass cannon, quindi pochissima difesa ma un sacco di danni, specialmente ad area. Il Furilege fa una buona quantità di danni e non ha altissima difesa, è un po' più difficile da masserare rispetto alle altre classi, ma a livelli alti si presenta come uno dei personaggi più forti. Lo Spadaccino è un guerriero melee che combatte quindi in corpo a corpo e ha una buonissima dose di HP, difesa e attacco, quindi molto bilanciato. È un DPS ma non è una buona scelta se volete giocare in autoplay. L'ingegnere è il support della situazione, quindi basso DPS ma ottime cure e supporto per il party. Combatte dalla distanza ed è piuttosto semplice da buildare.